Si dice che può fare più una donna con un sospiro che dieci uomini con un urlo, ed è tutta una questione di ormoni, e badate bene che non ho neppure utilizzato un detto volgare per spiegare questo concetto e a pensarci bene, non è neppure da me, però vediamo cosa c'entra con la street photography, ovviamente dopo la sigla. Grazie a tutti. Benvenuti e bentornati amici e fenauti. Vi faccio subito una domanda. Perché ci sono dei momenti che ci colpiscono di più e altri che invece pur essendo scenograficamente perfetti ci lasciano completamente indifferenti? E questo avviene sia in fase di scatto, ma anche quando ci fermiamo soltanto a guardare una fotografia. Cioè come mai alcune immagini ci scatelano dentro un'emozione travolgente, mentre invece altre che sono più impressionanti non ci muovono nemmeno un capello. Vabbè, non ce ne filiamo di pezza. È proprio una questione di ormoni. Perché in realtà il nostro corpo altro non è che un laboratorio chimico ambulante. Quando scattiamo infatti una fotografia che ci tocca, non è soltanto una questione di luci e di ombre, ma è il risultato di un vero e proprio cocktail di ormoni come il testosterone, gli estrogeni e le endorfine, e di neurotrasmettitori come la dopamina e la serotonina, che il nostro corpo e il nostro cervello decidono di rilasciarci nel corpo. Praticamente quando guardiamo qualcosa che ci piace, dentro di noi c'è un rave party, una bella festa. Ed è questa l'unica vera risposta che possiamo dare alla domanda del perché una fotografia ci piace più di un'altra. Le nuove scoperte che emergono nel mondo delle neuroscienze stanno aprendo agli artisti, ai fotografi, ma in realtà un po' a tutti, delle nuove strade per capire quello che a volte sfugge proprio alla razionalità. E questo non riguarda soltanto la medicina e la psicologia, di cui ovviamente io non sono un esperto, ma riguarda però il tutto quanto il nostro processo creativo. Quando siamo fuori con la nostra macchina fotografica, oppure quando siamo davanti al computer a editare le nostre foto, oppure anche quando stiamo facendo qualcosa di completamente diverso, come passeggiare, leggere, ballare, oppure anche applicare quello che abbiamo appena imparato, ecco c'è sempre prima una fase di adattamento. All'inizio può sembrare tutto quanto un po' meccanico, quasi sterile, però se poi ci mettiamo anima e corpo, se persistiamo, se davvero ci immergiamo in quel momento, le cose iniziano a prendere forma. All'inizio può non succedere nulla, però ecco diamo sempre tempo al tempo, continuate a lavorare, a esplorare, ma soprattutto continuate a sentire, perché a un certo punto, bam, le endorfine iniziano a fluire e tutto quanto acquista un senso, un colore, una vita che sembrava impossibile fino ad un attimo prima. Ecco è proprio questa la magia della nostra fotografia, la magia dell'arte. Adesso vi svelo un segreto che poi in realtà non è più nemmeno un mistero, però ricordarlo, spero che possa cambiare la vostra giornata, ma sono sicuro anche che potrà cambiare le prossime vostre uscite di street photography. Immaginate infatti di avere dentro il vostro corpo un alleato segreto, un supereroe che combatte al posto vostro lo stress e la negatività della giornata. Ecco, quest'alleato sono proprio le endorfine. Questi oppiacei naturali, come li chiamo io, sono delle sostanze che il nostro corpo produce per farci sentire su di giri, trasformando una giornata di merda in una giornata eccezionale. Quando le endorfine entrano in azione è come se ci liberassimo dalle catene della quotidianità e tutto quanto a un tratto, quella felicità che sembrava irraggiungibile diventa reale. E che cos'è che genera queste endorfine? Può essere il cioccolato, l'esercizio fisico, il ginseng, le risate, l'amore, il sesso, ma anche la creatività. Ecco, ciascuna di queste cose può fare sgorgare un flusso di endorfine nel nostro corpo che ci rende più vivaci, più chiari mentalmente e incredibilmente più creativi. Ed è come se improvvisamente tutto quanto diventasse più fluido, se le idee si collegassero tra di loro senza sforzo e ci trovassimo in uno stato di flow, dove tutto quanto è possibile, dove ogni interazione con il nostro ambiente diventa una vera e propria scoperta. Ecco, questo è quello che succede quando siamo pienamente immersi in un'attività creativa, quando per esempio usciamo a scattare fotografie. Quando siamo immersi nel mondo della fotografia e dell'arte, capita di avvertire un vero e proprio scossone dentro, uno scossone emotivo di fronte ad alcune scene. E non è soltanto una questione visiva, non è soltanto l'occhio che si emoziona, è qualcosa di più profondo, qualcosa che ci vibra dentro e che cambia proprio la chimica del nostro cervello. Immaginate di trovarvi di fronte a una scena che vi colpisce in maniera particolare. Ed è come se all'improvviso dentro sentiste un formicolio, una scarica di energia molto potente. E alcune volte questa energia può anche assumere una connotazione sensuale, coinvolgendo proprio tutto quanto il corpo in una connessione intima, intensa con quello che stiamo osservando. Questo tipo di reazione non è una reazione superficiale, perché in realtà modifica proprio il nostro stato interiore, il nostro equilibrio emotivo e anche quello psicologico. Tutto questo ce l'ha raccontato prima Stendhal nel suo libro Roma, Napoli e Firenze, ma in realtà tanti altri medici in ambito neurobiologico. Queste immagini, quelle che scatenano queste reazioni potenti dentro di noi, tendono a diventare un punto di riferimento, una tappa fondamentale del nostro processo artistico. Sono quelle immagini a cui torniamo più spesso, che sentiamo assolutamente nostre, che riflettono le nostre passioni e anche le nostre preoccupazioni più profonde. Ed è molto interessante notare come la neuroscienza spiega questi fenomeni attraverso la lente della dopamina, cioè quel neurotrasmettitore che è rilasciato durante esperienze piacevoli e che ci fa sentire sempre vivi, sempre motivati. La dopamina è stata etichettata come il cuore della nostra risposta ai grandi piaceri della vita, riassunta ironicamente nella formula sesso-droga e rock and roll. Ecco, questa sostanza chimica agisce come un incentivo potente nel nostro cervello e ci spinge sempre verso quello che ci gratifica. È la molecola della motivazione, infatti, così viene chiamata. E capire tutto questo ci può aiutare a comprendere perché alcune immagini o alcune esperienze ci agganciano più profondamente rispetto ad altre. Questo perché siamo in realtà delle creature guidate dalle emozioni e le nostre relazioni alle scene sono proprio l'esempio di come la biologia e l'emozione si intrecciano tra di loro, definendo tutte quante le nostre esperienze estetiche e influenzando anche la nostra creatività. Quindi la prossima volta che sentite una scossa dentro di voi davanti a una scena particolare, ricordate che è colpa della chimica ed è questa, cari effenauti, una delle magie più straordinarie di tutta quanta l'esistenza. La connessione tra neurotrasmettitori come la dopamina e la serotonina e la nostra capacità di essere creativi è anche questa molto affascinante perché da una parte ci sta la dopamina che regola il meccanismo di piacere e di ricompensa del nostro cervello che è essenziale per sentirci sempre energizzati, motivati e anche focalizzati. Mentre invece dall'altra parte c'è la serotonina che regola gli stati come la calma e l'ansia ed ha un ruolo importantissimo nel regolare l'umore, la percezione e anche la capacità di ricevere nuove intuizioni. E la serotonina agisce anche come un bilanciamento al cortisolo che è l'ormone dello stress che nuoce invece la nostra chiarezza di pensiero e la nostra capacità di essere creativi. La serotonina e la dopamina non funzionano indipendentemente l'una dall'altra ma in realtà lavorano insieme per ottimizzare tutto quanto il nostro potenziale. Ecco la capacità di visualizzazione del nostro cervello e più in generale la nostra creatività sono strettamente legate agli equilibri neurochimici e la sfida per noi a questo punto è trovare il punto di equilibrio tra una mente tranquilla e uno spirito vivace. E questo equilibrio è essenziale perché sia troppa distrazione ma anche troppa calma possono entrambe nuocere alla nostra creatività. È come camminare sempre sul filo del rasoio perché da una parte c'è l'intensità di questo fuoco interiore che abbiamo e dall'altra c'è la nostra mente calma e ricettiva. E la bellezza di questo equilibrio sta nel fatto che non si tratta soltanto di un obiettivo da raggiungere ma è un processo dinamico, continuo. La consapevolezza di sé e la regolazione attiva delle nostre condizioni mentali e le nostre condizioni emotive possono trasformarsi in un potente strumento per qualsiasi artista che sia questo fotografo, scrittore, musicista o creativo in generale. E questo non soltanto migliora la nostra capacità di creare ma arricchisce anche il modo in cui viviamo e percepiamo il mondo intorno a noi. E ma non si tratta sempre solo di fare quello che ci piace. In realtà quello che conta è lasciarsi andare completamente, il permettere cioè a tutti quanti questi ormoni di guidarci in un viaggio dove la nostra attenzione è sempre nitida, dove proprio la nostra mano insieme ai nostri occhi sono completamente allineati con il cuore e con la mente. E con la vera sfida a questo punto è rimanere sempre impegnati e non arrendersi mai davanti alla frustrazione. Per esempio nella street fotografia io stesso ho provato lo sconforto quando non riuscivo a catturare l'immagine giusta, quella che avevo in testa, ma la verità è che la magia accade quando insistiamo. Quindi entra quando entri in relazione con l'ambiente, quando lo studi, quando lo vivi, per permettere proprio a te stesso di entrare in sintonia con quello che ci circonda. Io per esempio tiro sempre fuori la mia macchina fotografica quando vado a fare street photography, ma non inizio a fotografare subito. Piuttosto passeggio, mi guardo intorno, mi fermo in un bar a prendere un caffè, ascolto le chiacchiere della gente, sento gli odori della strada, provo a immedesimarmi in quel posto e non lo faccio per perdere tempo, ma per costruire proprio una relazione con quello che ho attorno, per entrare nel flow e permettere proprio alle endorfine di fluire dentro di me. E quando accendo poi la macchina fotografica, eccomi qua, sono pronto nel flow. E quindi il mio consiglio è soltanto uno, abbiate pazienza, impegnatevi, lasciate che la chimica del vostro corpo faccia la sua parte. La creatività è un viaggio, non è una destinazione da raggiungere immediatamente, perciò non abbiate mai paura di spingervi oltre, di guardare sempre più a fondo, di vivere veramente ogni momento del vostro processo creativo. E ricordatevi che ogni scatto può essere sempre il principio di qualcosa di straordinariamente bello, anche quando magari all'inizio non vi sembra così. Se siete arrivati fino a qui vi posso eleggere i miei supereroi, però vi dico anche che ne valsa la pena, perché sta proprio qui il fascino della street photography. Perché la street photography non cattura soltanto l'essenza del momento, ma in realtà ci collega profondamente a tutte quante le emozioni universali che attraverso la nostra macchina fotografica diventano delle storie visive incredibili. E quindi la prossima volta che vi sentite sopraffatti dalla bellezza di una scena, ricordatevi che non è soltanto quello che state guardando, ma come in realtà vi fa sentire quello che state guardando. Questo è il vero nocciolo della street photography, che è un'arte che non si limita a documentare il mondo, ma che ci fa sentire vivi, connessi, parte di qualcosa di molto più grande di noi. Grazie per avermi seguito in questo viaggio attraverso l'anatonia della nostra percezione artistica. Non dimenticate di mettere like al video se vi è piaciuto, mi raccomando commentate e ditemi se non avete mai pensato che gli ormoni potessero condizionare tanto i nostri gusti. E mi raccomando iscrivetevi al canale, accendete la campanella e ci vediamo la prossima settimana. Grazie.